Grazie per questa partecipazione a questa giornata che abbiamo dedicato ai temi dell'antropocene, cioè dell'impatto dell'uomo sull'ambiente, su ciò che questo comporta anche a livello psichico nelle nostre menti ma anche nella nostra vita quotidiana. Per introdurre Vito Mancuso inizio subito con una domanda che rubo da una frase di un suo testo, La forza di essere migliori, dove Mancuso dice siamo sempre più consumatori e sempre meno esseri pensanti e quindi consumiamo il nostro pianeta, lo spolpiamo, lo inquiniamo, lo devastiamo, ne compromettiamo gli equilibri che reggono gli ecosistemi. Per quanto ancora si chiede l'autore, e io chiedo, ma allora, per uscire da questa situazione, da questa pandemia, da questa corsa verso l'autodistruzione, all'inizio abbiamo avuto l'intervento di Luca Mercalli che parlava quasi della irreversibilità della catastrofe che ci attende e io le chiedo quindi, ma insomma, per uscirne ci vuole più coraggio o più paura? Citando un altro testo del dottor... un po' piaccio... ecco, adesso funziona... ecco, buonasera a tutti, io comincio con delle scuse nei confronti di tutti voi, io detesto arrivare come sono arrivato adesso ai convegni alla fine senza ascoltare le cose, i contributi, perché non ha molto senso. Il senso di un convegno, lo dice la parola stessa, è quella di appunto di convenire, di ascoltare e poi di prendere la parola dopo aver ascoltato e quindi la parola risuona di quello che è stato detto e ha più sapore e si inserisce e crea armonia. Però, come dicevo alla responsabile di Temenos Bologna, sono stato costretto a fare questa cosa per una serie di incombenze, scadenze, eccetera, che mi schiacciano un pochettino. Insomma, capita a tutti di lavorare, di avere in certi frangenti il fiato un po' grosso. La seconda cosa che vorrei dire prima di affrontare la questione che mi è stata posta riguarda anche la mia posizione qua. Immagino che qualcuno di voi saprà che io di formazione sono un teologo. Beh, in un certo senso qui gioco in casa perché dai Domenicani, San Domenico, quindi va bene. Molti di quei libri che magari sono qui alle pareti sono stati anche oggetto delle mie attenzioni. Di sicuro non li ho letti tutti, neanche la metà della metà, però magari visti sì. Quando, per esempio, facevo il bibliotecario Venegono Inferiore, in Seminario Milano e via. Però esattamente per questa mia formazione parlare di antropocene mi fa sentire un po' come i cavoli a merenda. Una cosa che parla del presente, del presente così presente. Io che invece ho una formazione che guarda il passato, che guarda indietro. La mia patria ideale è Atene più Gerusalemme. Direi più Atene che Gerusalemme per motivi che... Ecco, però, insomma, è da questo binomio che si forma quell'energia spirituale di cui la mia anima si nutre. Non è New York, non è la Silicon Valley, non sono altre regioni del nostro pianeta che oggi invece sono diventate leading, ciò che guidano il nostro sentire, il nostro emozionarci, il nostro pensare. Io faccio una battaglia di retroguardia per quanto, come dire, tento di questa retroguardia, tento di confrontarla con le frontiere. Quindi so che cos'è antropocene. Non è da tempo che convivo con questa questione. Infatti quelle parole che sono state richiamate le ho scritte con una certa cognizione di causa. Allora, ci vuole più coraggio o più paura? Beh, io entrando, una cosa almeno sono riuscita ad ascoltarla da Magda Di Rienzio, mi è piaciuta molto questo richiamo ad Hans Jonas, L'euristica della paura, il libro Il principio responsabilità, Das Prinzip für Antwortung, è uno dei testi più belli, più profetici che il Novecento abbia prodotto. È stato scritto negli anni Settanta ed è di un'attualità sconvolgente, un'etica per la civiltà tecnologica. E il grosso problema che abbiamo noi è che abbiamo tanta tecnologia e ben poca etica. È un problema del resto questo. È uno stato, è una fotografia della situazione che è risaputa. la filosofia del Novecento e anche la teologia del Novecento l'ha messa in rilievo. Chissà come mai è stato così facile per noi moderni, per i moderni, sviluppare molta più tecnologia, sapere operativo, uscire est posse, diceva infatti, bacone, un pensiero operativo, trasformativo, del mondo esteriore e ben poco del mondo interiore. Per quanto quello che sto dicendo va parzialmente corretto, perché se sono qui, oltre ad essere a San Domenico, in un luogo, sono qui anche in un'associazione junghiana e invece il Novecento è stato proprio il secolo che ha iniziato lo scandaglio vero, analitico, veritiero, in un certo senso scientifico, così come si può fare rispetto a se stessi, del mondo interiore. Dico rispetto a se stessi perché mentre il mondo esteriore, bene o male, lo studio del mondo esteriore offre una oggettivazione, un sapere più o meno condiviso e di cui quindi possiamo parlare in termini di oggettivo, anche se qui poi si discute, ma insomma l'accordo sulla fisica, sulla chimica, sulla biologia per la gran parte esiste, c'è e di fatti queste scienze procedono quando si tratta del sapere interiore e lì invece è molto più difficile trovare un sapere condiviso. Ci vuole più coraggio o più paura? Beh, l'euristica della paura è certamente un passo importante, quello a cui richiamava Jonas, ma non basta. Eh no, che non basta. La paura, lo insegno a voi che se siete qui se conoscete la psicologia, la psicanalisi e tutto il fronte dell'emotività molto meglio di me, comunque ribadisco l'ovvio se volete, ma la paura è la prima emozione fondamentale, la prima delle sei emozioni universali. mi rifaccio ad Antonio Damasio, il quale appunto nei suoi scritti che ho letto con, non tutti, ma insomma in buona parte con attenzione e piacere, lei dice che ci sono sei emozioni universali che ogni essere umano proprio esattamente nella misura in cui è umano prova che voglia o non voglia e la paura è la prima di queste, le altre sono la rabbia seconda, poi la felicità e la tristezza e poi il disgusto e la sorpresa. Lui non lo dice Damasio, ma io mi sono immaginato che queste sei emozioni, non so voi cosa ne pensate, poi di questo possiamo discutere se ci sarà la possibilità, vadano interpretate a coppie come polarità e poi perché riproducono l'atteggiamento di apertura e di chiusura, la paura dice chiusura, la rabbia dice apertura, difatti la maniera con cui si vince la paura è esattamente quella di generare rabbia laddove è possibile e attaccare, così avviene con gli animali, altrimenti no, altrimenti si fugge seconda opzione oppure terza opzione se non si può neanche fuggire ci si blocca ci si raggomitola sono le tre maniere di affrontare la paura che abbiamo anche noi umani anche noi la nostra maniera aggrediamo o fuggiamo o ci raggomitoliamo e quindi queste sono polarità paura rabbia la stessa cosa vale per la tristezza e la felicità tristezza felicità la stessa cosa vale per il disgusto e la sorpresa disgusto sorpresa sorpresa si spalanca gli occhi e invece il disgusto pensate alla vostra faccia quando avete paura o disgusto o tristezza è una cosa che viene così e invece il contrario rabbia oppure come si chiama le altre due che ho detto felicità c'è proprio questo movimento dell'apertura e riproducono i due movimenti base cioè la vita psichica riproduce i due movimenti basi della vita fisica sistole di astole non è così ispirazione ispirazione chiusura del cuore dei polmoni e perché la psiche non dovrebbe avere un battito anche lei così come gli organi vitali e quindi è così quindi certo l'euristica della paura è importante è importante riconoscerla cioè è importante euristica lo sappia eureca eureca cioè archimede ho trovato no è quella maniera di come dire di di trovare di scoprire attraverso quindi attraverso la paura la paura se la interpreto è un messaggio e quindi mi rivela delle cose e se io la interpreto la leggo scopro eureca eureca scopro e scopro i pericoli e se infatti se io non ho paura se io non avessi paura andrei per esempio guidando nella nebbia a fare i spenti nella notte a proposito di emozioni come cantava Lucio Battisti quando ero ragazzo le emozioni a fare i spenti e si sa che fine fa uno che guida dico il più delle volte poi qualcuno può essere fortunato e non fare quella fine ma insomma ecco quindi è giusto che ci sia un'euristica della paura è giusto e noi ne abbiamo paura non sempre abbiamo euristica però diciamo che da questo punto di vista siamo messi bene il problema è il coraggio è il problema è il coraggio è l'euristica del coraggio da dove viene il coraggio che cos'è se la paura è un'emozione il coraggio secondo voi è un'emozione no giusto vedo una signora che fa così con la testa giusto giusto secondo me è proprio così non è un'emozione il coraggio è una virtù è certo che sì è una virtù anzi precisamente il coraggio è nell'elenco classico delle virtù cardinali che l'occidente prende da Atene noi abbiamo sette virtù noi occidentali per chi se le ricorda ormai sono scomparse andiamo in una classe del liceo dico liceo poi altri istituti non ne parlo nemmeno provate a chiedere anche al primo della classe che cosa sa delle virtù o è uno di CL e va bene forse il catechismo ma se no proprio niente e però per secoli e secoli la tradizione occidentale aveva questa elenco di virtù come tutte le grandi tradizioni hanno avuto tre cosiddette teologali e quattro virtù cardinali voi tutte le ricordate e le conoscete bene quindi non c'è bisogno di ricordarle mi posso limitare a dire che il coraggio è la terza virtù cardinale le altre le altre quattro le posso anche dire per giusto un ripassino perché cioè che sono le dico in greco perché e voi adesso direte perché le dice in greco per fare sfoggio del no le dico in greco per un motivo che adesso spiego sono fronesis di caiosine andrea e sofrosine in latino queste quattro virtù dico fanno prudenzia giustizia fortitudo temperanzia in italiano solitamente vengono tradotte prudenza giustizia fortezza ovvero coraggio eccolo qua temperanza la prima traduzione è sbagliata ma proprio sbagliata in radice perché la prudenzia latina che traduce la fronesis greca non è la prudenza italiana la prudenza italiana è la cautela giusto la circospezione quando noi diciamo bisogna agire con prudenza intendiamo quello sii prudente mi raccomando attraversare la strada sii prudente a rientrare a casa la sera con tutta la gente che c'è in giro ecco prudente ecco la fronesis non è questa la fronesis viene da Fren Fren è il diaframma ma anche la mente ma anche il cuore in un certo senso è quella miscela quell'armonia tra energia fredda ed energia calda della nostra umanità l'energia fredda ed energia calda l'energia fredda è la mente che vede che calcola analitica che produce conoscenza e l'energia calda invece produce significato senso sapore voi potete avere molta conoscenza e nessun significato o potete avere dei significati che non si basano sulla conoscenza e in questo caso avete a che fare con fanatismo ideologie insomma nella misura in cui invece c'è l'unione di queste due cose voi avete conoscenza più significato uguale saggezza sapienza questo è questa è la prima decisiva virtù di un essere umano fronesis Cicerone insegna nel nel Deofficis che fa vedere dice quello che i latini che i greci chiamano fronesis noi lo chiamiamo prudenzia e infatti prudenzia in latino significa saggezza discernimento ciò che aiuta a discernere c'è qualcuno laureato in giurisprudenza qui dentro ecco più di uno giurisprudenzia la prudenzia latina che forma giurisprudenzia che non è la prudenza del diritto cosa significa prudenza del diritto cautela del diritto nulla è il discernimento del diritto chi è che ha ragione palazzo della ragione di Padova per esempio palazzo della ragione dove avveniva amministrata la giustizia chi ha ragione dove sta la ragione ecco il diritto che arriva e dice chi ha diritto e chi ha torto è discerne questa è la iurisprudenzia coraggio è una virtù e la parola coraggio che traduce che è una maniera un sinonimo di Andrea 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 Andros è l'uomo forte il guerriero fortitudo non c'è bisogno di tradurlo tanto meno a Bologna che poi se uno pensa che la fortitudo è una virtus la cosa diventa ecco coraggio significa è un termine composto che è composto da cuore cor cordis e da ago agere dal suffisso agio che viene da ago agere agire l'italiano e anche il francese age riprende questa cosa dal verbo ago per cui per esempio non so ci sono altre parole per esempio spia è praticamente questa cosa l'azione del sostantivo agio lo aggiungete al sostantivo e designate l'azione che il sostantivo compie la spia cosa fa? spionaggio la canoa cosa fa? canottaggio il vagabondo cosa fa? vagabondaggio scusate ma una volta ero in Sardegna parlavo di queste cose e si alza uno dice scusi è forma formaggio è forma formaggio io ho pensato e mi sono detto ma guarda in inglese in italiano e in francese è così ma in tedesco in spagnolo e in inglese formaggio ha un termine e si dice alla stessa maniera viene da cheese case chesso cioè cacio è il cacio no? è il cacio mentre noi diciamo in italiano noi possiamo anche dire cacio certo però normalmente diciamo formaggio come in francese from age è forse veramente il latte che prende forma forse così la mente all'inizio ma comunque scusate mettiamo da parte queste cose dove trovarlo? ecco l'euristica del coraggio questo è il punto il coraggio di esistere c'è uno dei testi più insomma tra i migliori della teologia del novecento è di un teologo naturalmente tedesco che però a seguito del nazismo si trasferì negli Stati Uniti d'America e quindi questo libro lo scrisse in inglese si chiamava Paul Tillich e il titolo è The Courage To Be che è intradotto in italiano da Ubaldini il coraggio di esistere questa è una questione decisiva dove lo troviamo il coraggio di esistere perché vedete antropocene è tante cose ma e ci fa paura e forse ci apre anche cosa ci libera del tempo ci sarà così tanta disoccupazione a causa delle macchine che avremo bisogno di un reddito molti avranno bisogno di un reddito di cittadinanza quello di adesso non è neanche pensabile e va bene ci sarà tempo libero tempo liberato che è più o meno quello che sognava Marx se ci pensate non è che è una cosa diversa e quindi avremo bisogno forse cioè del vostro lavoro ci sarà un bisogno enorme quello di dare motivazioni di custodire il tempo interiore di guarire le ferite interiori penso e quindi una delle questioni decisive sarà precisamente quella di trovare motivazioni motore motivazioni core core diselazione del cuore euristica del coraggio ecco non so se ho risposto no ci vuole più lei mi chiedeva se ci vuole di più uno o ci vuole di più l'altro ma le due cose sono devono stare insieme devono stare insieme il coraggio che non questo lo insegna già aristotele nell'etica nicomaco dove dice precisamente che il coraggio è una virtù e in quanto virtù è un punto di equilibrio la famosa teoria della mesotes delle virtù le virtù si definiscono in quanto tali perché sono punto di equilibrio tra due estremi e in questo caso quali sono i due estremi che definiscono la virtù che nell'equilibrio dei quali si forma la virtù del coraggio sono la vigliaccheria da un lato e la temerarietà dall'altra e dall'altro chi ha paura di tutto don abbondio e dall'altro chi non ha paura di niente non mi viene in mente nessun personaggio insomma l'eroe in tre che non ha paura di niente forse Don Quixote se volete ecco forse per quanto è non ha paura di niente e combina quei disastri per quanto simpatici che vediamo e invece quindi le due cose vanno insieme non ci può essere solamente l'euristica del coraggio a prescindere dalla paura la paura è un'emozione come tale è vera è vera cioè le emozioni sono sempre vere e vanno lette capite soppesate e poi si tratta di capire se aprire la porta chiudere la porta si tratta di fare discernimento e di fatti Platone diceva insegnava e concludo e poi vediamo e diceva che tutte le virtù tutte derivano dalla dalla prima che non è a caso la prima è la prima nel senso proprio come dire assiologico del termine e tutte quelle cose che sono comprate senza la moneta della fronesis della saggezza della mente che discerne che vede e discerne perché tutto parte dalla mente che vede e discerne quando funziona e non valgono niente le cose comprate senza quella moneta e non si può vedere e discernere a prescindere dalle emozioni non si può leggere il mondo a prescindere dalle emozioni chi pensasse di leggere il mondo a prescindere dalle emozioni non leggerebbe il mondo umano io l'ho capita questa cosa più o meno non così in maniera così chiara così chiara l'ho capita dopo ma più o meno sentivo quando ero in seminario a Milano nel biennio filosofico c'era il rettore che peraltro è laureato in psicologia oltre che in teologia ma che aveva una concezione dell'emotività come qualcosa di assolutamente negativo per cui quando lui diceva che una persona era emotiva non so se mi spiego voleva dire niente che non sarebbe andato avanti nella carriera è un emotivo cioè come dire io al contrario dentro di me avevo come si dice un'accezione positiva dell'emotività è un emotivo quindi vuol dire che c'è che sente che si emoziona che palpita che c'è poi certo si tratta di navigare nel mare mosso delle emozioni chiaro che sì ma se non ci sono le emozioni non c'è il messaggio della vita quindi che cosa succede emozioni paura per esempio rabbia e le altre che ho detto e poi arriva il discernimento che le legge e il coraggio può intervenire solo se ascolta la paura se no se no è temerarietà è temerarietà è ignoranza chi non legge la paura chi non legge le proprie paure o è anaffettivo an emotivo non si dice an emotivo ma ci intendiamo come si dice uno che non è va bene non emotivo o ignorante o ignorante non sa leggere analfabeta psichico quindi abbiamo bisogno di entrambi in questo tempo i nostri coetanei i nostri contemporanei gli esseri umani in questo tempo hanno bisogno proprio secondo me di un alfabeto elementare abbiamo bisogno di un pensiero elementare io sono convinto ma così pensiero semplice elementare elementare sentite nel senso proprio della tavola degli elementi di Mendeleev tornare a definire le cose nella loro verità basilare tornare a rendere ragione pane pane vino il vino e che cosa dice dicendo questo ricondurre chiarezza chiarezza ecco di questo c'è estremo bisogno in questo tempo confuso impaurito e quindi arrabbiato perché dalla paura genera rabbia l'abbiamo visto prima è chiaro se c'è paura immediatamente c'è rabbia e se c'è rabbia vuol dire che c'è stata paura e che c'è ancora paura quindi in questo tempo così confuso c'è bisogno proprio di un alfabeto base che ogni disciplina umana tra cui la vostra deve fornire deve darsi e deve fornire ricondurre io quello che tento di fare nel mio mestiere insomma ricondurre le cose le nozioni dall'alto alla base agli elementi tavola degli elementi sarebbe bellissimo fare una tavola come Mendeleve fece all'inizio del secolo scorso era all'inizio del secolo scorso immagino la tavola degli elementi chimici così fare una tavola degli elementi psichici e metterli in connessione gli unici psichici e non solo sia psichici nel senso moderno sia psichici nel senso antico cioè di psiché di anima e quindi anche gli elementi spirituali e connetterli perché sono molto connessi la Jung e voi siete maestri lo sapete conoscete molto meglio di me ma lui era un alchimista appunto chimica chimica psiche spirito ecco qui la grande connessione la grande tavola degli elementi bisognerebbe farla un foglio così un foglio semplice non volumi 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 lo dice uno che li scrive quindi a volte bisogna scrivere tante pagine per giungere a una cosa sola così sia chiaro quindi non ho niente contro i volumi ampli o contro i volumi difficili ermetici quelli che lì non si capiscono bisogna leggerli rileggerli rileggerli perché sono contorti e poi ormai a 59 anni di età momenti che sono arrivato qualche giorno e li faccio e beh sono arrivato alla cosa che è la complessità la fumosità non è necessariamente una virtù anzi le cose che si capiscono bene si possono dire in maniera chiara e se le dici in maniera chiara vuol dire che le hai capite se non le dici in maniera chiara vuol dire che forse non le hai capite che stai parlandoti addosso stai ripetendo delle cose non stai toccando terra ma stai nel mondo delle parole non delle parole come veicoli della res nomina tantum nominalismo e non res realtà e fenomeni e verità vera delle cose bene grazie 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 grazie